ottima scelta comandante sì così è molto meglio comandante è la decisione giusta comandante dove sono state calmi al riparo presto mettetevi al riparo mettetevi al riparo provo a mettermi al riparo sono al riparo sì centrato l'ho preso e muori ne vuoi ancora crepa bastardo crepa maledetto bastardo e muori e muori conviene sia a me che a te crepate bastardi vuoi morire ti aiuto io e muori ne ho fatto fuori uno finalmente ne ho beccato uno ne ho beccato uno ne ho beccato uno meglio te che a me ci vediamo all'inferno per te cala il separio non è stato difficile farlo fuori è stato troppo facile ti ho beccato va all'inferno mitragliatrice nemica veicolo nemico attenzione veicolo nemico vedo un veicolo nemico è il nemico eccoli nemico in vista fanteria nemica truppe nemiche attenzione nemici in vista nemico nei paraggi nemico davanti a noi forze nemiche individuate ci sparano da sopra granata mettetevi al riparo presto mettetevi al riparo attenti granata attenzione granata giù la testa granata granata fuori di qui granata in piena testa mi hanno colpito sto sanguinando mi hanno ferito maledetto bastardo maledizione mi hanno colpito ah va all'inferno mi hanno sfiorato ah è solo un graffio urrà 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 forza forza avanti la vittoria sarà nostra nessuna pietà all'attacco gli farò vedere chi comanda ah bene così guarda impara vai all'inferno ve la faccio vedere io non parli più ti farò fuori ah mi hanno preso ah mi hanno beccato in pieno ah mi hanno sparato la ferita è grave sì signore sì ci penso io ok sto arrivando ho finito le munizioni sono a secco finite le munizioni dannazione il mio caricatore vuoto sì signore sì signore ricevuto ricevuto capito capito mi servono munizioni mi servono munizioni ho bisogno di munizioni ho bisogno di munizioni avete delle munizioni avete delle munizioni attaccate il punto di controllo alfa attaccate il punto di controllo alfa sferrate l'attacco al punto di controllo alfa sferrate l'attacco al punto di controllo alfa prendete da sedio il punto di controllo alfa prendete da sedio il punto di controllo alfa attaccate il punto di controllo bravo attaccate il punto di controllo bravo sferrate l'attacco al punto di controllo bravo sferrate l'attacco al punto di controllo bravo prendete da sedio il punto di controllo bravo prendete da sedio il punto di controllo bravo attaccate il punto di controllo charlie attaccate il punto di controllo charlie sferrate l'attacco al punto di controllo Charlie! Sferrate l'attacco al punto di controllo Charlie! Prendete da serio il punto di controllo Charlie! Prendete da serio il punto di controllo Charlie! Attaccate il punto di controllo Delta! Attaccate il punto di controllo Delta! Sferrate l'attacco al punto di controllo Delta! Sferrate l'attacco al punto di controllo Delta! Prendete da serio il punto di controllo Delta! Prendete da serio il punto di controllo Delta! Attaccate il punto di controllo eco attaccate il punto di controllo eco sferrate l'attacco al punto di controllo eco sferrate l'attacco al punto di controllo eco prendete da sedio il punto di controllo eco prendete da sedio il punto di controllo eco copritemi copritemi hai bisogno d'aiuto hai bisogno d'aiuto devo mettermi al riparo devo mettermi al riparo no signore no signore no no mi rifiuto mi rifiuto difendete il punto di controllo alfa difendete il punto di controllo alfa proteggete il punto di controllo alfa proteggete il punto di controllo alfa mantenete il possesso del punto di controllo alfa mantenete il possesso del punto di controllo alfa difendete il punto di controllo bravo difendete il punto di controllo bravo proteggete il punto di controllo bravo Mantenete il possesso del punto di controllo bravo! Difendete il punto di controllo Charlie! Proteggete il punto di controllo Charlie! Mantenete il possesso del punto di controllo Charlie! Difendete il punto di controllo Delta! Mantenete il possesso del punto di controllo Delta! Difendete il punto di controllo Echo! Mantenete il possesso del punto di controllo Echo! Mantenete il possesso del punto di controllo Echo! Veloci! Seguitemi! Statemi dietro! Aiutatemi! Dottore! Ci serve un medico! Servono le coordinate del veicolo nemico! Datemi le coordinate del veicolo nemico! Ditemi la posizione del veicolo nemico! Ditemi la posizione del veicolo nemico! Scusate! Scusate! Mi dispiace! Mi dispiace! Perdonatemi! Perdonatemi! Grazie! Grazie! Grazie mille! Grazie mille! Vi ringrazio! Ottimo lavoro! ottimo lavoro, bel lavoro, ben fatto, ben fatto, copritemi, copritemi mentre ricarico, maledizione ho finito le munizioni, ricarico, maledizione sono a secco, ricarico, dannazione il mio caricatore vuoto, ricarico, ricarico, giù la testa, cecchino, cecchino, a terra, no signore, non ci riesco, non ce la faccio, aiutatemi, dottore, ci serve un medico, sì signore, pronti al servizio, a rapporto signore, sto conquistando il punto, respingeteli, in difesa, non fateli avanzare, ottima scelta comandante, sì, così è molto meglio comandante, è la decisione giusta comandante, dove sono? state calmi, al riparo, presto mettetevi al riparo, mettetevi al riparo, provo a mettermi al riparo, sono al riparo, sì, c'è entrato, l'ho preso, è fuori, ne vuoi ancora? crepa bastardo, crepa maledetto bastardo, e muori, e muori conviene sia a me che a te, crepate bastardi, vuoi morire? ti aiuto io, e muori? ne ho fatto fuori uno, finalmente, ne ho beccato uno, ne ho beccato uno, ne ho beccato uno, meglio a te che a me, ci vediamo all'inferno! per te cala il sipario, non è stato difficile farlo fuori, è stato troppo facile, ti ho beccato, va all'inferno, mitragnatrice nemica, veicolo nemico, attenzione, veicolo nemico, vedo un veicolo nemico, è il nemico, eccoli, nemico in vista, fanteria nemica, truppe nemiche, attenzione, nemici in vista, nemico nei paraggi, nemico davanti a noi, forze nemiche individuate, ci sparano da sopra, granata mettetevi al riparo, presto mettetevi al riparo, attenti granata, attenzione granata, giù la testa, granata, granata, fuori di qui, granata, in piena testa, mi hanno colpito, sto sanguinando, mi hanno ferito, maledetto bastardo, maledizione mi hanno colpito, ah, va all'inferno, mi hanno sfiorato, è solo un graffio, urrà, 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 forza, forza, avanti, la vittoria sarà nostra, nessuno ha pietà, all'attacco, ti farò vedere chi comanda, ah, bene così, guarda impara, vai all'inferno, ve la faccio vedere io, non parli più, ti farò fuori, mi hanno sparato, ah, mi ha beccato, ah, cavolo, ah, mi hanno preso in pieno, sì signore, sì, ci penso io, ok, sto arrivando, ho finito le munizioni, sono a secco, finite le munizioni, dannazione il mio caricatore è vuoto, sì signore, sì signore, ricevuto, ricevuto, capito, capito, mi servono le munizioni, mi servono le munizioni, ho bisogno di munizioni, ho bisogno di munizioni, Avete delle munizioni? Attaccate il punto di controllo alfa, attaccate il punto di controllo alfa, sferrate l'attacco al punto di controllo alfa, prendete da sedio il punto di controllo alfa, attaccate il punto di controllo bravo, attaccate il punto di controllo bravo, sferrate l'attacco al punto di controllo bravo, Prendete da sedio il punto di controllo bravo Attaccate il punto di controllo charly Sferrate l'attacco il punto di controllo charly Prendete da sedio il punto di controllo charly Attaccate il punto di controllo delta Attaccate il punto di controllo delta Sferrate l'attacco al punto di controllo delta Sferrate l'attacco al punto di controllo delta Prendete da serio il punto di controllo delta Prendete da serio il punto di controllo delta Attaccate il punto di controllo eco Attaccate il punto di controllo eco Sferrate l'attacco al punto di controllo eco Sferrate l'attacco al punto di controllo eco Prendete da serio il punto di controllo eco Prendete da serio il punto di controllo eco Copritemi Copritemi Hai bisogno di aiuto Devo mettermi al riparo! No signore! No! Mi rifiuto! Difendete il punto di controllo alfa! Proteggete il punto di controllo alfa! Mantenete il possesso del punto di controllo alfa! Difendete il punto di controllo bravo! Proteggete il punto di controllo bravo! Mantenete il possesso del punto di controllo bravo! Difendete il punto di controllo Charlie! Mantenete il possesso del punto di controllo Charlie! difendete il punto di controllo delta difendete il punto di controllo delta proteggete il punto di controllo delta proteggete il punto di controllo delta mantenete il possesso del punto di controllo delta difendete il punto di controllo eco difendete il punto di controllo eco proteggete il punto di controllo eco proteggete il punto di controllo eco mantenete il possesso del punto di controllo eco mantenete il possesso del punto di controllo eco Veloci! Seguitemi! Statemi dietro! Alzatemi! Ho bisogno di aiuto! Mandate un medico! Servono le coordinate del veicolo nemico! Datemi le coordinate del veicolo nemico! Ditemi la posizione del veicolo nemico! Scusate! Scusate! Mi dispiace! Perdonatemi! Grazie! Grazie mille! Vi ringrazio! Ottimo lavoro! Bel lavoro! Ben fatto! Copritemi! Copritemi mentre ricarico! Maledizione! Ho finito le munizioni! Ricarico! Maledizione! Sono a secco! Ricarico! Tannazione! Il mio caricatore è vuoto! Ricarico! Ricarico! Giù la testa! Cecchino! Cecchino! A terra! No signore! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Alzatemi! Ho bisogno di aiuto! Mandate un medico! Sì signore! Pronti al servizio! A rapporto signore! Sto conquistando il punto! Respingeteli! In difesa! Non fateli avanzare! Ottima scelta comandante! Sì così è molto meglio comandante! È la decisione giusta comandante! Dove sono? State calmi! Al riparo! Presto! Mettetevi al riparo! Mettetevi al riparo! Provo a mettermi al riparo! Sono al riparo! Sì! C'è entrato! L'ho preso! E muori! Ne vuoi ancora? Crepa bastardo! Crepa maledetto bastardo! E muori! E muori! Conviene sia a me che a te! Crepate bastardi! Vuoi morire? Ti aiuto io! E muori! Ne ho fatto fuori uno! Finalmente! Ne ho beccato uno! Ne ho beccato uno! Ne ho beccato uno! Ne ho beccato uno! Meglio a te che a me! Ci vediamo all'inferno! Per te cala il sipario! Non è stato difficile farlo fuori! È stato troppo facile! Ti ho beccato! Va all'inferno! Mitragliatrice nemica! Veicolo nemico! Attenzione! Veicolo nemico! Vedo un veicolo nemico! È il nemico! Eccoli! Nemico in vista! Fanteria nemica! Truppe nemiche! Attenzione! Nemici in vista! Nemico nei paraggi! Nemico davanti a noi! Forze nemiche individuate! Ci sparano da sopra! Granata! Mettetevi al riparo! Presto! Mettetevi al riparo! Attenti! Granata! Attenzione! Granata! Giù la testa! Granata! Granata! Fuori di qui! Granata! È in piena testa! Mi hanno colpito! Sto sanguinando! Mi hanno ferito! Maledetto bastardo! Maledizione! Mi hanno colpito! Va all'inferno! Mi hanno sfiorato! È solo un graffio! Urrà! 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 Forza! Forza! Avanti! La vittoria sarà nostra! Nessuna pietà! All'attacco! Gli farò vedere chi comanda! Ah, bene così! Guarda e impara! Vai all'inferno! Ve la faccio vedere io! Non parli più? Ti farò fuori! Ah, mi hanno beccato! Ah, che dolore! Tiratemi fuori di qui! Sono ferito gravemente! Sì, signore! Sì! Ci penso io! Ok, sto arrivando! Ho finito le munizioni! Sono a secco! Finite le munizioni! Dannazione! Il mio caricatore è vuoto! Sì, signore! Sì, signore! Ricevuto! Ricevuto! Capito! Capito! Mi servono munizioni! Mi servono munizioni! Ho bisogno di munizioni! Ho bisogno di munizioni! Avete delle munizioni? Avete delle munizioni? Attaccate il punto di controllo alfa! Attaccate il punto di controllo alfa! Sferrate l'attacco al punto di controllo alfa! Sferrate l'attacco al punto di controllo alfa! Prendete d'assedio il punto di controllo alfa! Prendete d'assedio il punto di controllo alfa! Attaccate il punto di controllo bravo Sferrate l'attacco al punto di controllo bravo Prendete da sedio il punto di controllo bravo Attaccate il punto di controllo Charlie Sferrate l'attacco al punto di controllo Charlie Prendete da sedio il punto di controllo Charlie Attaccate il punto di controllo Delta Sferrate l'attacco al punto di controllo Delta Prendete da sedio il punto di controllo Delta Attaccate il punto di controllo Echo Attaccate il punto di controllo Echo Sferrate l'attacco al punto di controllo Echo Prendete da sedio il punto di controllo Echo Prendete da sedio il punto di controllo Echo Copritemi Hai bisogno d'aiuto Devo mettermi al riparo No signore Mi rifiuto Mi rifiuto Difendete il punto di controllo Alpha Proteggete il punto di controllo Alpha Mantenete il possesso del punto di controllo Alpha difendete il punto di controllo bravo, proteggete il punto di controllo bravo, mantenete il possesso del punto di controllo bravo, difendete il punto di controllo Charlie, proteggete il punto di controllo Charlie, mantenete il possesso del punto di controllo Charlie, difendete il punto di controllo Delta, proteggete il punto di controllo Delta, mantenete il possesso del punto di controllo Delta, difendete il punto di controllo Echo, proteggete il punto di controllo Echo, mantenete il possesso del punto di controllo Echo, veloci, seguitemi, statemi dietro, aiuto sono qui, aiuto sono qui, salvatemi, salvatemi, dottore, dottore, servono le coordinate del veicolo nemico, servono le coordinate del veicolo nemico, datemi le coordinate del veicolo nemico, datemi le coordinate del veicolo nemico, datemi la posizione del veicolo nemico, datemi la posizione del veicolo nemico, scusate, scusate, mi dispiace, mi dispiace, perdonatemi, perdonatemi, Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille, vi ringrazio, vi ringrazio, ottimo lavoro, ottimo lavoro, bel lavoro, ben fatto, ben fatto, copritemi, copritemi mentre ricarico, maledizione ho finito le munizioni, ricarico, maledizione sono a secco, ricarico, dannazione il mio caricatore è vuoto, ricarico, ricarico, giù la testa, cecchino, cecchino, a terra, no signore, non ce la faccio, non va, aiuto, sono qui, salvatemi, dottore, ci serve l'assistenza dell'artiglieria, sto chiamando l'artiglieria, artiglieria, aprite il fuoco sulla piazza, sono una macchina assassina, sono il migliore, sono inarrestabile, sì signore, pronti al servizio, a rapporto signore, mi servono munizioni, ho bisogno di munizioni, avete delle munizioni? sto conquistando il punto, respingeteli, in difesa, non fateli avanzare, ottima scelta comandante, sì, così è molto meglio comandante, è la decisione giusta comandante, dove sono? State calmi, a riparo, presto, mettetevi a riparo, mettetevi a riparo, provo a mettermi a riparo, sono a riparo, sì, centrato, l'ho preso, e muori, ne vuoi ancora? crepa bastardo, crepa maledetto bastardo, e muori, e muori, conviene sia a me che a te, crepate bastardi, vuoi morire? Ti aiuto io, e muori, ne ho fatto fuori uno, finalmente, ne ho beccato uno, ne ho beccato uno, ne ho beccato uno, meglio a te che a me, ci vediamo all'inferno, per te cala il sipario, non è stato difficile farlo fuori, è stato troppo facile, ti ho beccato, va all'inferno, mitragliatrice nemica, è il nemico, eccoli, nemico in vista, fanteria nemica, truppe nemiche, attenzione nemici in vista, nemico nei paraggi, nemico davanti a noi, forze nemiche individuate, lancio un esplosivo, lancio una dinamite, tiro un esplosivo, ci sparano da sopra, vengo con voi, vi faccio fuori tutti, prendi questa, beccati questa granata, ehi scemo, beccati questo, ehi scemo, ho una cosa per te, lancio una granata, attenti, sto per lanciare una granata, granata, mettetevi a riparo, presto, mettetevi a riparo, attenti, granata, attenzione, granata, giù la testa, granata, granata, fuori di qui, granata, in piena testa, mi hanno colpito, sto sanguinando, mi hanno ferito, maledetto bastardo, maledizione, mi hanno colpito, ah, va all'inferno, mi hanno sfiorato, è solo un graffio, urrà, 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 forza, forza, avanti, la vittoria sarà nostra, nessuna pietà, all'attacco, preso, trovato, e questo è andato, non mi scappi, non mi sfuggi, dove credi di andare, sei spacciato, è finito, addio, morto stecchito, e questo è andato, fatto, preso al primo colpo, bel colpo, prendi questo, gli farò vedere chi comanda, ah, bene così, guarda e impara, maledizione, la mitragliatrice si è surriscaldata, la mitragliatrice si è surriscaldata, cavolo, la mitragliatrice si è surriscaldata, lancio un proiettile incendiario, li annaffio di benzina, tiro un proiettile incendiario, mi hanno sparato, ah, è profonda, aiuto, sono ferito gravemente, avanzate verso la posizione del nemico, avanzate verso la posizione del nemico, avanzate verso la posizione del nemico, fuoco a volontà, sparate lì, sparate a quello, aprite il fuoco, sparate a quegli obiettivi, dobbiamo farli fuori, all'attacco, continuate a sparare, veloci, andiamo, andate, seguitemi, seguitemi, venite con me, veloci, veloci, restate con me, continuate ad avanzare, avanti, non c'è tempo da perdere, non fermatevi, ho finito le munizioni, sono a secco, finite le munizioni, dannazione, il mio caricatore è vuoto, finalmente, abbiamo conquistato il punto di controllo, fantastico, sì signore, ricevuto, capito, mi servono munizioni, ho bisogno di munizioni, avete delle munizioni? attaccate il punto di controllo linico, sferrate ad assedio il punto di controllo linico, prendete ad assedio il punto di controllo linico, attaccate il punto di controllo linico, premodate a vostra seno, sferrate pretensioneannée punto di controllo delta attaccate il punto di controllo eco sferrate l'attacco al punto di controllo eco prendete da sedio il punto di controllo eco copritemi hai bisogno di aiuto devo mettermi a riparo no signore no mi rifiuto difendete il punto di controllo alfa proteggete il punto di controllo alfa mantenete il possesso del punto di controllo alfa difendete il punto di controllo bravo proteggete il punto di controllo bravo mantenete il possesso del punto di controllo bravo, difendete il punto di controllo Charlie, proteggete il punto di controllo Charlie, mantenete il possesso del punto di controllo Charlie, difendete il punto di controllo Delta, proteggete il punto di controllo Delta, mantenete il possesso del punto di controllo Delta, difendete il punto di controllo Eco, proteggete il punto di controllo Eco, mantenete il possesso del punto di controllo Eco, veloci, seguitemi, statemi dietro, qualcuno mi aiuti, aiuto dottore servono le coordinate del veicolo nemico datemi le coordinate del veicolo nemico ditemi la posizione del veicolo nemico scusate mi dispiace perdonatemi grazie grazie mille vi ringrazio ottimo lavoro bel lavoro ben fatto copritemi copritemi mentre ricarico maledizione ho finito le munizioni ricarico maledizione sono a secco ricarico dannazione il mio caricatore vuoto ricarico ricarico giù la testa cecchino cecchino a terra attacchiamo i loro veicoli facciamolo esplodere distruggiamo i loro veicoli finiamolo costruiamolo prendete i martelli distruggiamolo eliminiamoli abbattiamolo restate vicini marciate in formazione serrata squadra dividersi soldati dividetevi mantenete le distanze formazione standard prendete un veicolo salite su salite difendete questo punto ok dobbiamo restare in possesso di questo punto mantenete le posizioni annullate l'ordine l'ordine è annullato ordine annullato presto potrai tornare a correre ti sistemiamo noi presto tornerai a correre radunatevi squadra radunarsi radunatevi intorno a me qualcuno mi aiuti aiuto dottore proiettivo 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 non è stato colpito non l'abbiamo colpito mancato per un soffro ci è sfuggito caricato proiettile in canna pronti a sparare pronti fuoco il caricatore è stato storbito il caricatore è stato storbito il caricatore è morto il caricatore è stato ferito il caricatore è stato ferito il comandante è stato storbito il comandante è stato storbito il comandante è morto il comandante è stato ferito il comandante è stato ferito l'ho colpito si c'è entrato, me mi sta, meccato, ci ho meccato, il pilota è stato stornito, il pilota è stato stornito, il pilota è morto, il pilota è stato ferito, il pilota è stato ferito, spostiamoci indietro, spostiamoci davanti, spostiamoci a sinistra, spostiamoci a destra, carro armato dietro di noi, carro armato davanti a noi, carro armato a sinistra, carro armato a destra, il motore è stato distrutto, il motore si è rotto, Il motore è andato! Il fuoco è stato spento! Abbiamo spento il fuoco! L'abbiamo spento! Andiamo a fuoco! Fuoco! Cortina fumogena! Fumo! L'artigliere è stato stormito! L'artigliere è stato stormito! L'artigliere è morto! L'artigliere è stato ferito! L'artigliere è stato ferito! Gli attuatori sono stati danneggiati! Il nostro sistema di puntamento orizzontale è danneggiato! Gli attuatori sono bloccati! Il cingolo di sinistra è andato! Il cingolo di sinistra è distrutto! Caricate! Caricatelo! Preparatemi! Caricate la pallottola perforante! Caricate il proiettile! Caricate il proiettile! Caricate il proiettile perforante! Caricate il proiettile di grosso calibro! Caricate il sabot! Caricate la mitaglia! Caricate la mitaglia! Caricate la granata a frammentazione! Caricate l'esplosivo ad alto potenziale! caricate l'esplosivo a carica cava, caricate il fumogeno, caricate il fumogeno, caricate il fumogeno l'operatore radio è stato sordito, l'operatore radio è stato sordito, l'operatore radio è morto l'operatore radio è stato ferito, l'operatore radio è stato ferito, il nostro carro armato è stato colpito il nostro carro armato è stato danneggiato, ci hanno colpito, hanno perforato il nostro carro armato il nostro carro armato è stato perforato, il nostro carro armato è stato danneggiato, ci hanno colpito, hanno fatto uno squarcio nel nostro carro armato, ci hanno ferito, le bastardi ci hanno ferito, stiamo caricando, non è ancora pronto, non è pronto, stiamo ancora caricando, un attimo, il cingolo di destra è andato, il cingolo di destra è distrutto, danni da dietro, danni da davanti, danni da sinistra, danni da destra, prossimo obiettivo, il carro armato nemico è stato distrutto, il nemico è stato distrutto, colpito, l'obiettivo è stato distrutto, sta bruciando, abbiamo offritto quel bastardi, l'abbiamo fatto ai ferri, beccati questo, ricevuto, abbiamo obiettivo, obiettivo sotto controllo, l'obiettivo è stato individuato, interdirezionale danneggiata, il nostro sistema di puntamento verticale è danneggiato, gli attuatori sono bloccati, l'arma è stata danneggiata, l'arma è stata distrutta, hanno distrutto il nostro cannone, lo duratore è intasato, è intasato, si signore, pronti al servizio, a rapporto signore, ricevuto, ordine confermato, ricevuto, fuoco, ricevuto, artiglieria, fuoco, sto conquistando il punto, respingeteli, in difesa, non fateli avanzare, Grazie a tutti!